Ciao, mi chiamo Annalisa, vengo da Roma e ho appena trascorso questa magnifica settimana qui alla Puglia Forte Club di Scalea. È stata una settimana molto intensa, bellissima, sono con i miei due figli, praticamente la grande non la vedo da una settimana perché ha fatto amicizia, c'è il team club, il piccolo sta giocando a calcio, io mi sono rilassata, i ragazzi dell'animazione sono fantastici, ho girato tanti villaggi ma devo dire che questo è stato uno dei posti in cui sono stata meglio. La struttura è molto bella, la piscina, il ristorante, il mare, non dimentichiamo il mare che è meraviglioso, nonostante ci siano i sassolini che io non amo molto, ma l'acqua è veramente spettacolare. Il cibo è buonissimo, freschissimo, tutto il personale è molto gentile, quindi camerieri, bagnini, tutti quanti, la reception, quindi ve lo consiglio, venite tutti alla Puglia Forte Club.